Ciao a tutti, vediamo in questo video 5 strategie per difendersi dai manipolatori. Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo l'appuntamento di venerdì 17 gennaio 2020 a Torino con il mio seminario su come liberarsi dalla paura dell'abbandono affettivo e dalla paura del rifiuto e conquistare chi desideri. Ti ricordo inoltre che chi non potesse partecipare ai seminari è al giusto, il riferimento è 333 15 11 703 e ti ricordo inoltre che chi non potesse partecipare ai seminari può abbonarsi al canale Massimo Terramasco andando sulla home page, affianca al tastino iscriviti, trovi il tastino abbonati, ti abboni e potrai iniziare il tuo percorso di crescita personale con me. Allora, quali sono le 5 strategie per difendersi dei narcisisti? Beh, la prima cosa importante, fondamentale, inevitabile è quella di, diciamo, riconoscere il manipolatore affettivo. Quindi, riconoscere il manipolatore affettivo bisogna, per riconoscerlo, evitare un coinvolgimento iniziale perché se tu hai un coinvolgimento iniziale, diciamo che quando hai l'amore e le fettine di prosciutto sugli occhi non ti rendi conto di nulla, per cui è importante da questo punto di vista poter uscire fuori da questa situazione e non avere più degli obiettivi, diciamo così, legati al conquistare una persona perché se hai obiettivi legati al conquistare il manipolatore e ti accanisci su questo non riuscirai ad ottenere assolutamente nessun risultato. Quindi devi mantenerti attivo e quindi renderti conto che quando qualcuno ti fa vivere il senso di colpa o fa vivere delle coercizioni o utilizza dei metodi di comunicazione manipolativa questo, diciamo, è importante. Questo è importante per capirlo. La comunicazione può essere manipolativa, diventa manipolativa quando fa leva su un ricatto emotivo o un senso di colpa, oppure può essere coercitiva quando ti ricatti in qualche modo, diciamo così se mi lasci non vedrai più i nostri figli oppure, e poi può essere una manipolazione anche analogica, cioè la persona non dice niente ma fa delle azioni per farti vivere un senso di colpa. Ecco, queste sono tutte situazioni che dobbiamo, diciamo, che dobbiamo prestare in considerazione. Quando abbiamo a che fare con, abbiamo riconosciuto il manipolatore, per difenderci dobbiamo, allora, prima di tutto non cercare di essere amati dal manipolatore, perché il manipolatore non ti ha, dobbiamo chiedergli nulla. Dobbiamo renderci conto che una persona manipolativa è una persona estremamente negativa che in qualche modo non ti amerà. Quindi questa consapevolezza dobbiamo acquisirla. Dobbiamo utilizzare il metamodello per smascherarlo. Quando lui ti dice qualcosa, tu digli ma cosa ti fa pensare questo? Ma perché? Cioè, fai delle domande, rispondigli sempre con delle domande. Con delle domande ti dice, ad esempio, dovresti fare questo, ma cosa ti fa pensare che dovrei fare quello? Secondo me dovrei fare quell'altro. Quindi in modo tale da inchiodarlo, inchiodarlo sempre attraverso delle domande. Delle domande, questo si chiama metamodello, un modello di precisione che ti permette di inchiodare una persona, diciamo, nelle sue stesse, diciamo, come dire, asserzioni, nelle sue stesse affermazioni. Poi la terza cosa, la terza strategia è quella di definire delle responsabilità. Cioè, vai a capire tutte le responsabilità che ha il manipolatore e appioppagliele. Cioè, devi praticamente utilizzare la sua stessa strategia. Non devi essere onesto, tra virgolette, con il manipolatore. Devi utilizzare la sua stessa strategia. Devi fottertene assolutamente dei sensi di colpa. Devi essere libero dei sensi di colpa. Qualunque cosa ti dica, qualunque cosa faccia, è una sua responsabilità. Uno che dice, se mi lasci mi ammazzo, devi dire, guarda, fammi sapere dove, perché io vado da un'altra parte. E poi dobbiamo avere la forza, come diceva Vascolosi in una canzone, c'è chi dice no. Dobbiamo avere la forza di dire dei no. No perché non mi va. Oppure senza neanche dare nessuna spiegazione. Ecco, queste sono le uniche strategie, diciamo così, che possiamo mettere in atto, che servono a preservarci e a liberarci dal gioco, diciamo così, del manipolatore affettivo. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale. Ti ricordo l'appuntamento di venerdì 17 gennaio 2020 a Torino, ore 20.45, con il mio seminario su come liberarsi da paura dell'abbandono affettivo, paura dei rifiuti e sedure chi vuoi. Riferimento 333 15 11 703. E ti ricordo inoltre che attivo sul canale Massimo Terramasco il servizio abbonamento, per cui ti puoi abbonare e abbonandoti, diciamo, potrai iniziare il tuo percorso di crescita personale con me. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!